Formazione ed informazione, prevenzione e repressione degli abusi. Nell'azione combinata di ciascuno di questi elementi e nella costante collaborazione tra i vari settori della società civile, si potranno produrre risultati rilevanti nelle azioni di contrasto alle morti sul lavoro, nonché procedure efficaci per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. E' quanto emerge dal lavoro dei tecnici e dei ricercatori dell'HS Symposium di Napoli, di cui, nel corso di un incontro pubblico nella sede dell'INA e il Campania, si è annunciata per il prossimo 29 e 30 ottobre 2021 la terza edizione. La manifestazione, incentrata sui temi della salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, è ideata e organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dell'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di INAIL Campania, di Ebilav, ente bilaterale nazionale e di Fondo Lavoro. Ascoltiamo Luigi Doriano e Carlo Parrinello. Avere intorno a un tavolo tutta la vita civile, tutti i soggetti che compongono gli stati della vita civile, diventa un momento di confronto fondamentale. E poi l'ispirazione e l'innovazione che possono dare i ragazzi con la loro innovazione, la riteniamo un elemento fondamentale che possa sicuramente far fare la differenza. Il Fondo Lavoro in questo contesto interviene in due momenti. Uno è quello formativo e si occupa di far apprendere ai lavoratori quello che è la normativa sulla sicurezza. L'altro è informare, divulgare, comunicare e promuovere tutto quello che è il mondo della sicurezza e sensibilizzare la società civile. Alla presentazione sono intervenuti anche Adele Pomponio, direttore regionale Vicario INAIL Campania, e Umberto Carbone, presidente emerito del corso di laurea in tecniche della prevenzione dell'Università Federico II. Noi dobbiamo parlare di sicurezza e di cultura per fare in modo che il fenomeno sia sempre più contenuto. Gli ultimi episodi di cronaca ci insegnano proprio questo, cioè parlare e continuare a parlare di salute e sicurezza per i lavoratori e rivolgendoci alle pratee più vaste. Questo nostro simposio e questa larga partecipazione di ricercatori italiani che hanno dimostrato di essere interessati profondamente a questo tema presentandoci delle novità, delle loro esperienze nuove, delle loro prospettive di azione in questo campo ci ha chiaramente dato molto convincimento che siamo al terzo anno di questo simposio ma su una strada molto giusta.